Pace e tranquillità nel corso della... La cavalcata è stata piacevole, duchessa? Affatto! Ho corso a rotta di collo tutto il tempo per timore di una pugnalata alla schiena! Non riesco a capire, duchessa, chi tenta di uccidervi? Mio padre li teneva a bada, mi teneva al sicuro. Ora mi danno la caccia, vogliono la mia testa! Ma, signora... La vita di campagna doveva essere serena. La morte mi segue persino qui. Aumentate le ronde e avvisatemi se ci sono intrusi. Nessuno può entrare nel palazzo tranne la guardia di mio marito. Sentite, una duchessa? Suonate l'allarme se avvistate qualche intruso! Povero Alfonso, sua moglie ha perduto il senno. Volendo un piantino obronione, la sua moglie ha perduto il senno. х Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preferirei di no. Protesterò col duca in persona. Ah sì? E come pensi di riuscirci se manco puoi entrare? Ne ho abbastanza. Resta dove sei. Fatemi passare! Devi aspettare finché la duchessa non te lo permette. Non te ne andrai così! Io sono il lustro a scarpe ufficiale della duchessa. Nessuno può entrare nel palazzo. Non vorrei che se ne lustri da sola. Da sentire quello che la duchessa fa o non fa... Io sono il lustro a scarpe ufficiale della duchessa. Nessuno può entrare nel palazzo. Non vorrei che se ne lustri da sola. Da sentire quello che la duchessa fa o non fa non è di certo affar nostro. No, te lo dico io. Cosa dovrebbe fare? Sinceramente preferirei di no. Protesterò col duca in persona! Ah sì? E come pensi di riuscirci se manco puoi entrare? Ne ho abbastanza! Resta dove sei. Fatemi passare! Devi aspettare finché la duchessa non te lo permette. Ah! Ah! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Cos'è? State arredando casa? Mi risulta che abbiate cinque tele di Leonardo da Vinci che mi appartengono. Le rivolgio. Se solo fosse così facile. La mia città natale, la mia famiglia mi sono state strappate. Credete che Ferrara mi ami? Sono una forestiera, una reglietta, un'orfana! I vostri quadri non ci sono più, assassino. Fatico a credervi. Spaventoso, ne vero? Perdere così tanto. Forse... potremmo confortarci a vicenda? Sì, forse. Dove sono i dipinti? Venduti a Francesco Colonna. È uno da un tale di cui mi ero incapricciata, Patrizio. Passa il suo tempo dalle parti del Vaticano. Uno soltanto l'ho tenuto per me. Consegnatemelo. Guardie! Caricate l'annunciazione di Da Vinci su un carro. Lasciatelo fuori dalle mura. Molto bene. Ora, chiudete gli occhi. Mio marito arriverà tosto con le sue guardie. Perciò fareste bene... a sprecarvi. Perdonatemi, Duchessa. Per quale ragione? Nessuno può lenire la vostra pena. Dovete pensarci da sola. I miei omaggi al Duca vostro marito. Guardie! 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 La! Prendetelo, presto! La! Seguiamolo! Guardie! Eccolo! Forza! Forza! Perfetto! Modo per risalire! Perfetto! 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 Il consiglio rionale ricorda ai pelettini in visita di fare attenzione alle strutture Il consiglio rionale ricorda ai pelettini in visita di fare attenzione alle strutture